Sono sei i giovani laureati a Biella in scienze dell'amministrazione online dell'Università di Torino. A Città Studi, sede universitaria di Biella, si è svolta la prima sessione di laurea. I sei laureandi hanno discusso la loro tesi di fronte alla commissione presieduta dal professor Roberto Cavallo Perrin, presidente del corso di laurea e delegato del Rettore per gli insediamenti universitari extrametropolitani. Il corso di scienze dell'amministrazione online è iniziato a Biella nell'anno Accademia 2013-14. Oggi gli studenti iscritti sono un centinaio. Pierettore Pellerei, presidente di Città Studi, ha affermato che l'attivazione di questo corso di laurea all'interno della nostra sede rappresenta un valore aggiunto nel campus universitario e rafforza il rapporto di collaborazione con l'Università degli Studi di Torino. Ma cos'è un corso di laurea online? È un procedimento che serve di internet per agevolare gli studenti nella acquisizione della laurea senza l'obbligo della frequenza fisica. Un sistema particolarmente utile agli studenti lavoratori. Grazie. Grazie.